Questa è una storia a specchio, è una storia di pionieri, è una storia di gente che sale su carri traballanti, lungo piste che portano verso il nulla, è una storia di pelli, di cacciatori, di commerci, sembra la storia dell'uest americano, invece è la storia dell'est russo, è la storia che comincia a mezzo secolo prima di quanto non sia successo in America, è una storia che ha un protagonista assoluto che si chiama Rezanov, è lui che cerca di portare l'impero russo fino alle rive del Pacifico e poi più in là, colonizza l'Alaska, fonda la Russian American Company, perché spera di portare in dote allo zar anche il cuore dell'America. Scende fino alle coste della California, si fidanza con la figlia del governatore spagnolo, prende accordi con lui, torna a San Pietroburgo per avere un incontro chiarificatore con lo zar e finalmente riuscire a realizzare il suo sogno, un sogno che avrebbe cambiato come ovvio la storia dei due secoli successivi e invece muore di polmonite mentre fa ritorno a San Pietroburgo in un villaggio della Siberia, Krasnoyarsk e lì finisce il sogno. Di tutta questa storia fantastica di pionieri, di avventura rimangono ormai pochissime cose, un avamposto russo Fort Ross nella contea di Sonoma a nord di San Francisco e Rashanil che è ormai diventato un quartiere trendy a San Francisco. Di tutto il resto si è persa traccia.